Ciao a tutti, finalmente è arrivato il momento di dare un giudizio su questa CBR1000 2017. Iniziamo dalla standard, l'abbiamo guidata questa macchina sul tracciato e il portimaro. C'è qualcuno che la sta ancora guidando? Abbiamo guidato appunto con un setting specifico delle sospensioni che ricordano sono le semiattive della versione SP. Un setting fatto dagli uomini Honda con lo zampino di tale Freddy Spencer e Titor Abad. E la moto si è comportata molto bene, ci è piaciuta la classica Honda, facile, una moto con cui entri in confidenza dopo due giri. La gommatura di serie Bridgestone S21 ha permesso di apprezzarne il carattere. Logicamente dopo qualche giro alzando il ritmo la gomma ha iniziato a dare un po' segni di cedimento, però ci ha fatto apprezzare appunto il bilanciamento di questa moto. Il motore è bellissimo, spinge forte, in fondo a rettiline abbiamo visto quasi 300 all'ora, per cui parliamo di velocità allineate. Ammineate alla migliore concorrenza. Altre volte ci è capitato di guidare qui a Portimao e le velocità dai 290 ai 300 all'ora sono quelle delle top bike. Ci è piaciuta molto l'elettronica, funziona molto bene il traction, interviene in maniera molto molto velata. Ci ha convinto meno l'ABS che entra e si fa sentire con delle leggeri vibrazioni della leva al freno e non ci ha convinto anche l'anti-wheeling, l'anti-wheeling che ha un funzionamento altale in arte. A volte si inserisce in maniera violenta, altre volte sembra quasi non intervenire, per cui sempre meglio tenere il piedino destro. Il motore, come dicevamo, spinge fortissimo e in questo è aiutato anche da un cambio con un quick shift in scalata e in nesto delle marce. fantastico, precisissimo, veloce, veramente privo di difetti, diciamo così. Un problemino viene dalla protezione aerodinamica, il cupolino, come si vede è davvero minuscolo, permette di coprire forse il mento. Poche altre sportive della sua categoria hanno una protettività così da naked, però per il resto questa è davvero una gran moto. Adesso andiamo a vedere come si è comportata la SP. Ed eccoci qui con la versione SP, la top di gamma. Allora, parliamo subito delle sospensioni perché sono la cosa che la differenzia maggiormente dalla versione standard. Le sospensioni semiattive Olin si sono comportate molto bene, ci sono piaciute, sono molto sensibili alle regolazioni. Le abbiamo provate anche in manual, cioè il setting che praticamente viene mantenuto fisso. Lavorano come se fossero delle sospensioni standard classiche. Poi le abbiamo provate invece con quello che è la regolazione semiattiva, per cui è la sospensione che si regola passo passo durante il giro. E anche lì si hanno convinto completamente. L'impianto frenante in questo caso abbandona le pinze Tokiko della versione standard. Abbiamo la lebra in boccia monoblocco. Il piatto frenante è eccezionale, però l'ABS rimane sempre un filo troppo invasivo. Bisogna stare attenti a come si va a prendere in mano la leva. Se si è troppo bruschi, la chiamata all'ordine dell'ABS è immediata. E c'è una leggera tendenza ad allungare. Anche in questo caso il discorso dell'anti-wheeling è migliorabile. È migliorabile perché è vero che Portimaro è una pista che più che un tracciato normale è un toboga. E veramente sembra di andare sulle montagne russe. Però il piedino sul freno dietro qua è necessario. Se uno la guida, non tenendo conto dell'anti-wheeling, è una moto perfetta. Il motore è lo stesso della standard, per cui ci ha convinto totalmente. Che cos'è? Difetti? Ma sinceramente rispetto alla standard non troviamo altri difetti. Può essere migliorata la protezione aerodinamica. Può essere visto un po' l'intervento dell'ABS, l'anti-wheeling. Però i pregi sono davvero tanti. La moto si guida benissimo. Oltretutto noi abbiamo avuto modo di girare con le bridge stone slick. Per cui in questa configurazione la moto si è comportata davvero molto bene. Ha una trazione pazzesca, angoli di piega, velocità di inserimento, cambi di direzione. È notevole. È a livello delle migliori. Altre cose? Altre cose? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.